Musica 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 Ma per professione Ho chiamato due o tre amici miei Musica Musica Ma pensando di comprarci la montana di noi Amore, com'è questo gelato? E' buonissimo Com'è questo gelato? Mamma mia, evviva la romana Guarda qua, si è svolcato Amore, guarda che è successo E' là, il fodero, il fodero Ha gelato il fodero Amore, ha fatto un macello Amore, ma che combinato questo gelato Ma che combinato Hai saputo dappertutto Ma fai perché noi abbiamo accorciato il telefono Spiegamelo Gli ultimi anni primi Vabbè E' solo là E' finita la panna sul gelato Ma gliel'hanno messa Ma gliel'hanno messa? Mettete la panna a Carlita Gliel'hanno messa secondo te? Mettete quello che ci si trattacca A parte ci bandi su Mettete il suo incozzo E' che la panna si tratta Non so se c'è un'azienda Mettete il tuo ragazzo Ma gliel'hanno messa E' un monstro Che bello, mi hanno dato una coppetta piena di panna Grazie amore Come mangi bene il gelato? Ragazzi, guardate Questo è il secondo gelato che si mangia Il cono già è finito Dove si può pulire la bocca No, si lecca Ma a parte ho pagato Fai vedere come si lecca Non se lecca le pene Ecco, adesso si è pulita Viva, viva la Roma Stiamo vedendo Nancy nel televisore Il vlog di Nancy Nancy gigante Stiamo vedendo tu nel televisore Troppo bello I vlog di Nancy sono troppo belli Vero amore? Bellissimo La cognata è in tv La cognata è in tv Acqua con limone e fragoline E dissetarsi Che succede? Non è male che non lo dici Perché hanno una collezione lentissima Guardate mia sorella Le gambe scure Viedi fianchi Perché si è messo la tua brozzata Sulle gambe Sì vedi no Vediamo la parte bella Spalla Spalla Davide 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 Eeeh 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 Stiamo nel parchi E' un giorno ancora E quindi E' fatto una boccia così E' una cosa che ho messo Tutti che potrò caricare in più Qua già sta per l'anno romana Non ti ha Cura l'orecchia si è vista Cura l'orecchia Eeeh Sono molto contento di guidare questa macchina sportiva Diciamo che abbiamo una macchina piccola Una macchina sportiva E' il cupen Amore guarda che abbiamo comprato Vieni a vedere Per completare in bellezza Che bella Pizze Sei contento? Siamo scesi Mentre lui dormiva Mi ha fatto una fuga Si è svegliato e non ci ha trovato Anche Sassicce e Fiarielli Sassicce e Fiarielli a Roma Poi è epico Per completare questa giornata di strafogamento Anzi iniziato a ieri Esattamente Che buoni Voi ci avete mangiato No Amore vi avete mangiato qualcosa Alla sicuramente Nooo no veramente amore Giuro Sono un pazzarotto È passibile Amore cosa hai comprato? E non perchè scappi sembra che tu non hai pagato Invece abbiamo pagato Amore Vuoi dire le cose che hai comprato? Ma no Per chi praticamente cosa è successo? Vabbè Perdonate l'aspetto Mh Praticamente Stavamo perdendo Prendendo sonno Oddio che fritto sull'autostrada E' notte Stiamo tornando a Napoli E praticamente Ragazzi questo sarà L'ultimo video L'ultimo video di carità dolce L'ultimo video di carità dolce Lui ha detto ci dobbiamo fermare Perché ho sonno Ho detto prendi qualcosa Con la scusa con la scusa C'è preso biscotti I cosi la Redbull Adesso Non so se sopravviveremo Comunque In ogni caso Noi vi salutiamo E adesso Ci mangiamo tutte queste cose Io mi sono presa questi E mi cado Sto attendo che cadi Perché abbiamo mangiato solo tipo 20.000 calorie in questi giorni Quindi andiamo facciamo 21.000 E va bene Ciao ragazze Non so ci rivedremo Salve da Carlita dolce ragazzi Ciao Vi ho voluto bene Sicuro che non vogliamo dormire Sono già le due Se ci addormentiamo Cioè dobbiamo aprire il negozio alle otto e mezza Dobbiamo Questa volta dobbiamo Dobbiamo Ciao Mangi i biscotti Ci salutiamo Guardi un biscotto ragazzi L'ultimo biscotto Della vita Ma questi biscotti poi In tutto l'altro chi li trovo Gli unici biscotti costano 99 centesimi Immaginate cosa Possono essere Buoni Immagino Vabbè Ciao 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 Sempre il mio metodo del ghiaccio Ovvero ci metto il ghiaccio Nella rose golden bottle Questa qua sempre in visita sul sito fitty E poi ci verso l'acqua calda che sto scaldando lì Così lo bevo a temperatura ambiente Comunque è troppo buono E vi aiuta tantissimo Come drenante Anticellulite Per avere la pancia piatta E proprio per sentirvi più in forma Specialmente dopo una buffata Questi veramente sono il mio segreto Il mio primo segreto Per stare in forma E per avere la pancia piatta E eliminare i liquidi in eccesso Quindi ve li straconsiglio E mi raccomando Utilizzate sempre il mio codice sconto CARLITA10 Sul sito www.fittea.it Se li volete comprare Così avrete sempre il 10% di sconto Con questo mio codice Oggi giornata dedicata al beauty wellness Mentre mi bevo fitty Sto qua pronta che mi devo fare il fango Di questa nuova linea Talasso dei Provenzali Che adoro Di cui vi ho fatto anche il video Andate a vederlo Adesso mi metto il fango Yeee Buono Guarda Dice mamma ma che cosa hai fatto Guarda mamma che ha fatto Il fango E' ottimo ragazzi Ho fatto il fango Cioè veramente ho fatto Prima lo scrub E poi il fango Come vi ho spiegato Nel video recensione La cosa bella E' super rinfrescante Anche piacevolissima Per lo addosso E poi un quarto d'ora E ti sciacqui amore Attenta che ti sporchi Un quarto d'ora Ti sciacqui Già fatto effetto Quindi non c'è bisogno Di farlo stare tantissimo Io la metto su gambe Cosce Glutei Glutei Soprattutto sui glutei Per la cellulite Tutto qua Vedete E anche un po' Su punto vita Comunque è ottimo Veramente La cosa bella E' che nei suoi mercati Non sempre si trova Tutta la linea E invece Al Carlita Shop Ce l'abbiamo Quindi Soprattutto se siete di Napoli Provincia Venite a Carlita Shop A quarto In provincia di Napoli E troverete tutta la linea Perché veramente è fantastica C'è anche la crema per il seno C'è di tutto E io adesso so fresca fresca Tra poco Già mi devo sciacquare C'è fantastico Evviva Il fango più veloce del mondo Poi è super efficace Rassodante anticellulite Prima dell'estate Vanno fatti ragazze eh Grazie Sono le 11 E io sono distruttamente distrutta Sono in auto Praticamente cosa è successo Abbiamo finito di allenarci Oddio non sto bene qua Niente vi stavo dicendo Abbiamo finito di allenarci E Dario E sono le 11 Adesso siamo andati a casa sua E faccio capire tutti i casini Che facciamo noi A posare l'auto A sua madre Che gli serviva Perché lui stava con l'auto Della madre Perché la sua sta a riparare Adesso torniamo con la mia auto A casa mia E dobbiamo ancora mangiare Cucinare Cucinare Mangiare E probabilmente Troveremo però a casa Il pesce che mia mamma Si è offerta Volontaria Di cucinarmi E quindi Spero tanto di trovarlo Perché se no Mangeremo tardissimo E poi devo anche Devo anche montare il video Quindi andrò a letto tardissimo Vero amore Sto raccontando le nostre disavventure Perché le nostre giornate Iniziano presto E finiscono tardissimo Cioè non finiscono mai Facciamo mille cose Ma adesso andiamo Forse è finita la nostra giornata Iniziamo a tolare Questa c'è la ciladella Silenzio Quindi T'ho posto amore T'ho posto Andiamo? Sì Il amore stanchissimo Andiamo Buonanotte Buonanotte Buona giornata Tra un po' inizio Ma non si vede niente E si vede niente Sì Ecco a voi Marcella da T'angelo E non è Angela È Muschio Oh, è tempo Non è Angela È Muschio Oh, è tempo Oh, è tempo Carcita da T'angelo E tu sei in ciladonna Tu ho vengi di fiducia Inizio Inizio Conoci quanto c'è Alessio Che amico è mio Eh, chi è che non è amico tuo Tata Guarda che bella sorpresa abbiamo trovato Oh Un bel pesce fatto a cartoccia Dalla mia mamma Ma veramente su quattro amore Ma quanto pesci dobbiamo mangiare Perché mangiamo tante proteine Sono due spigole Queste sono fatte però arrostite Secondo me Sono enormi E due ragel Ma tu amore Ma non mangiamo tutto adesso È troppo roba Per te Adesso facciamo anche il riso con la salsa No, ma mangiamoci questo qua E questo è anche il riso Un po' di carboidrati Comunque si hanno benedette Tutte le mamme Vero? Yes Mamma mia troppo fantastico Cazzi non ci piace di sobbasmati Guardate qua Questa Pupi che c'è? Ce n'è poco Questa è una Una scatolona piena di sobbasmati Che metto così perché Ne mangiamo tantissimo È vero amore? Che c'è amore a mamma? No amore Pupi L'ha risposto a lui Vero amore? Amore vero Amore Amore a te adesso Amore Comunque sto facendo il riso Amore Amore Guarda che si scioglie Bellina eh Buon appetito amore Buon appetito E l'acqua e limone Mio amore fa sempre l'acqua e limone Sì Buon appetito amore Buon appetito Buon appetito amore Chiusa la cucina Comunque vi aspettiamo qua a Carita Shop e questa settimana per la gioia di Dario e di tutte le persone che hanno lavorato Saremo aperti anche sabato e domenica Sempre mattina e pomeriggio fino alle otte e mezza Vi aspettiamo Ti piace questo vestito amore? Sì bellissimo E ci saranno anche Nancy E ci saranno anche Nancy E certo anche Nancy Venite via Santa Maria Quarto Napoli Ecco a voi ragazzi L'estrazione sulla ruota di quarto Che corso L'estrazione di Carlita come si chiama L'estrazione io estrargo Chiudo i giochi Chiudo gli occhi Numero vincente Facciamolo dire in televisione 08 08 08 E' vinto Ha vinto Ha vinto Un fango corpo della nuova linea dei Provenzali di cui ho fatto anche il video E abbiamo tutta la linea qua a Carita Shop Che è bellissimo Rimodellante Sei contenta? Bellina Ma facciamo un'altra estazione Così non mi faccio prendere collera Te l'ho detto Io sono stata la sorella che vincite quello stamattina Te l'ho detto della sorella stamattina Vediamo Numero 84 Io Eccola Un'altra vincitrice Allora hai vinto Di Nabla Un ombretto E una matita Magic Pencil Di Nabla Per te Sei contenta? Bene Bene Ciao E' finita Ciao ragazzi Ragazze Praticamente oggi Ho mangiato tipo 8 kg di pizzette E sto tipo morendo Vi sento i panni napoletani E adesso siamo al ristorante giapponese Vi sto facendo tornare di nuovo la fame Perché siamo allo Yugenit ma vi giuro sto scoppiando Comunque c'è una bella notizia che a brevissimo avremo il sito Yeah il sito del Caritas Shop che bello Siete contenti? Io non vedevo l'ora Nenzi tu sei contenta del sito del Caritas Shop? Massimo Perché Nenzi è contenta Comunque Andate a vedere anche il vlog di Nenzi Adesso ci faremo belle ciotte ciotte Non è bene Non è bene Che cosa? Ti ho fatto spaventare Dici quante pizzette e panini ho mangiato? Stai facendo 80 pizzette e 150 panini Ma pure tu dai dove sei mangiato? Io 20 Io di più Ai mesi 5 Qua c'è anche dentro Adesso sono incinta Sono incinta perchè mangio così Vieni una pizza con una margherita Pizze e panino Pizze e panino Comunque sei contenta che faremo un nuovo sito? Il sito del Caritas Shop Vieni qua Non si vede però E' accuimento Concentri Vieni qua Ok Non è successo Che cosa? and it was all about you so far you are the one thing in my way you are the one thing in my way you are the one thing in my way voglio parlare con te voglio parlare con te anche ad un altro non lo parlo con te lasciamoci tutto il rispondere di te che lascia solo guarda che se ne dice le porti quando scriviamo amore mio guarda l'altro schermo là ti amo amore mio guarda ma non è vero ti amo amore mio